Andrea Zenga oggi compie 31 anni e questo compleanno è particolarmente speciale, da pochi giorni infatti è diventato papà per la prima volta della piccola Camilla. Non poteva ricevere regalo più bello della nascita della sua bambina e nelle sue ultime apparizioni pubbliche appare raggiante e felice. In una delle foto più recenti lo vediamo con Camilla in braccio, mentre lei dorme serenamente. Andrea ha commentato l'immagine con un post divertente, la nuova posizione preferita è stata sbloccata, un chiaro riferimento a quanto orami tenere la sua bambina tra le braccia. In passato Andrea aveva già mostrato segnali della sua voglia di paternità, pubblicando spesso foto in cui coccolava il loro cagnolino Chino, quasi come un'anticipazione della sua futura esperienza da papà. Ora che questo desiderio si è realizzato, crediamo che la famiglia Zenga festeggerà il compleanno di Andrea in modo semplice e intimo, circondati dagli affetti più cari. Con l'arrivo della piccola Camilla l'attenzione sarà tutta su di lei e, comprensibilmente, Andrea e la sua compagna preferiranno trascorrere questi momenti in tranquillità, lontani dallo stress.